Ciao a tutti, sono Marta Lucini e sono una delle attrici dello spettacolo Casa di Bambola di Ibsen con la regia di Gabriele Calinde. Il personaggio che interpreto è il personaggio di Nora. Nora è una donna molto coraggiosa che chiede un prestito all'insaputa del marito per potergli salvare la vita e commette questa leggerezza di fare una firma falsa. Partendo da questo fatto poi la vicenda avrà degli sviluppi molto imprevedibili per come inizia lo spettacolo. Penso che questo sia un testo molto rivoluzionario perché Ibsen alla fine fa dire a Nora delle battute che raccontano il suo bisogno, la sua esigenza di riscoprirsi innanzitutto come essere umano prima ancora che come moglie e quindi tutto questo la porterà a lasciare il marito per scoprire la sua verità e non la verità del marito, del padre, della legge, della società. Le date di questo spettacolo sono il 9 maggio ad Alessandria, Teatro Alessandrino e poi dal 14 al 18 maggio qui al Teatro Delfino di Milano. Quindi vi aspettiamo tutti.